e cari futuri sposi state cercando la location per il vostro matrimonio ok in un luogo incantato immerso nella natura ricavato da un vecchio molino potrete trovare il milos il luogo magico dove ormai tutti gli sposi che non si accontentano hanno voluto avere cura di tutti i dettagli dall'accoglienza alla cortesia dove i vostri stessi invitati non faranno altro che ricordare quanto è stato bello festeggiare il vostro matrimonio in una location a favola per cui se non volete accontentarvi e volete rendere unico ed esclusivo il vostro matrimonio in una struttura che non abbia nessuna pecca il posto ideale si chiama milos e cari futuri sposi pronti a partire ok allora grazie all'agenzia travel by di catanzaro avrete la possibilità di avvalervi di tutti i servizi iniziando dal servizio di biglietteria di trenitalia al servizio del treno italo voli low cost per trovare quindi le migliori offerte ai prezzi più bassi in assoluto il servizio dei traghetti viaggi di gruppi destinazione di pellegrinaggio viaggi su misura offerte last minute insomma il vostro viaggio ideale verrà curato in tutti i suoi dettagli perché il vostro viaggio di nozze sia indimenticabile soprattutto senza nessuna sorpresa e con la massima affidabilità e cari futuri sposi la data del vostro matrimonio si sta avvicinando non avete ancora trovato il vestito dei vostri sogni nessun problema perché a pensarci è aldo gentile danni vi prende per mano vi cura in tutti i vostri dettagli perché sa benissimo quanto è importante per voi quel giorno l'abito che indosserete una sola volta e per tutta la vita deve essere l'abito che avete sempre desiderato per cui da oggi potete tranquillamente mettervi comodi visitare l'atelier scegliere tra un'ampia gamma di modelli e ricordarvi quanto è bello indossare non un semplice vestito ma le emozioni che ricorderete per sempre aldo gentile e cari futuri sposi sappiamo quanto è importante rivivere rendere indimenticabili i momenti più belli quelli del vostro matrimonio ecco perché vi serve un fotografo che vada ben oltre a un semplice obiettivo ecco perché potrete tranquillamente contare sulla competenza e sulle motività che in grado di trasferirvi danilo assara fotografo per cui rendete magici tutti i vostri scatti per rendere indimenticabile il vostro giorno più bello danilo assara e cari futuri sposi tra i vostri preparativi manca chi si prende cura degli allestimenti in floreali nessun problema perché come per magia arriva la magia dei fiori capace di rendere magico ogni singolo momento e ogni singolo dettaglio perché la cornice del vostro giorno più bello dovrà essere indimenticabile così come in grado di fare la magia dei fiori e cari futuri sposi volete che anche il vostro matrimonio venga ricordato per un'idea regalo particolare per una bomboniera originale ok allora il vostro partner d'eccellenza è sicuramente Arturo Pasquinucci ecco perché vi aspettiamo nella nuova sede di Catanzaro perché troverete un'ampia gamma di soluzioni dove anche in quel caso gli invitati e tutti coloro che hanno partecipato al vostro matrimonio ricorderanno come è stato veramente un giorno speciale